allora intanto ciao a tutti mi chiamo matteo e oggi vi parlo di pattern matching in dart e flutter intanto domande per voi chi sa cos'è dart è abbastanza importante oggi ok tre quattro ok chissà cos'è il pattern matching ok ok perfetto beh allora intanto dart è il linguaggio con cui è scritto flutter che è un framework per creare app per diverse piattaforme voi scrivete il codice una volta sola e poi potete fare il deploy su android ios web web magari no perché fa un po schicco desktop quindi windows mac e linux e anche c'è un qualche pazzo che lo sta usando per embedded quindi raspberry cose del genere c'è anche proprio un'azienda che si è messa a creare interfacce per macchinari industriali pilotati in flutter quindi ha veramente applicazioni di ogni tipo oggi però parliamo di pattern matching quindi una cosa un po più che riguarda dart ma ovviamente potete usarlo nelle vostre app flutter che cos'è il pattern matching e soprattutto da dove viene il pattern matching arriva da i linguaggi funzionali è una tecnica che esiste da moltissimi anni e che però si è persa un attimo diciamo intorno al 2000 soltanto alcuni linguaggi hanno continuato ad utilizzarla adesso si sta un attimo riscoprendo e lo stanno aggiungendo in tantissimi linguaggi quindi per esempio quelli un po più antichi e sepolchi come eschele o camel scala ed elixir hanno il pattern matching direttamente integrato e adesso lo stanno di nuovo aggiungendo anche per dire in dart lo trovate in python in rust ok tantissimi linguaggi ce l'hanno a disposizione iniziamo dalle basi intanto io si legge si legge fin là in fondo? sì per tanto ok io ho dichiarato semplicemente una variabile x uguale a 5 e facciamo finta che molto stupidamente vogliamo fare dei controlli su questa variabile quindi se è 1 voglio stampare 1 se è 2 voglio stampare 2 se è maggiore di 0 voglio dire che è maggiore di 0 altrimenti stampo il valore della mia variabile bene vedete che questo codice funziona ok però non è proprio la miglior cosa da poter scrivere come possiamo andare a riscrivere questa roba qua? con uno switch ok quindi mettiamo il caso in cui siamo al giorno di 0, l'1, il 2 e il default intanto c'è un errore in questo switch riuscite a vedere dov'è? c'è qualcuno che sa dirmi dove c'è un errore in questo switch? non è nella sintassi vai perfetto esatto perché? perché in pratica il primo caso è sempre vero perché 1 è maggiore di 0, 2 è maggiore di 0 quindi entreranno sempre nel primo caso quindi intanto importante ricordatevi l'ordine in cui andate a mettere i vari case dopodiché introduciamo la sintassi di dart3 dove il pattern matching è finalmente stato aggiunto che cosa si può fare? intanto è stata aggiunta una nuova diciamo versione del default case ok dove in pratica possiamo accedere al valore della variabile in questo modo qua non so benissimo il motivo di questa cosa perché chi mi vieta di utilizzare di nuovo x al posto del nome che gli ho dato qua non lo so ok sappiate che esiste tolto questo che cosa si può anche andare a fare? esiste un case con l'underscore quella si chiama wildcard in pratica significa non mi interessa di che valore ha questa la variabile semplicemente tutto quello che non è stato scelto nei casi precedenti buttamelo dentro questo case qua e ora appunto gli switch si possono utilizzare anche come expression cosa significa questa cosa qua? che mentre prima gli switch erano solo delle strutture di controllo quindi se la mia variabile soddisfa un determinato case fai questa cosa qua però erano soltanto diciamo i case erano tutti quanti void ok quindi facevi qualcosa morto lì adesso invece possono essere utilizzati per restituire anche un valore e assegnare ad una variabile dipendentemente dal case che è stato utilizzato quindi per esempio cosa succede? che intanto perdiamo la keyword case ok per trasformarlo nell'expression i due punti diventano delle frecce ho tirato su tutto quanto i punti e virgola scompaiono e diventano virgole e va aggiunto importantissimo un punto e virgola alla fine ok questa cosa qua che cosa si fa? noi possiamo andare ad assegnare ad una variabile il nostro intero switch in questo modo il case in cui noi andiamo ad entrare viene assegnato poi alla variabile ovviamente le print non hanno senso di essere assegnate ad una variabile quindi ho messo semplicemente dei valori quindi cosa succederà in questo caso? che per esempio x è 5 ok vuol dire che è maggiore di 0 e quindi y diventerà 50 ok molto sì no tu intendi che vuoi assegnargli altro? ah no 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 perché allora ok ho capito cosa intendi il punto qual è? è che nel momento in cui tu superi questa graffa ok il valore di x è quello che aveva subito prima di iniziare ok quindi il valore di x è quello nessuno ti vieta di andare a riassegnare per dire non so callback value gli fai uguale 10 ok e poi lo usi però è un dato che poi viene perso nel momento in cui superi questa graffa qua ok e nel momento in cui tu vai a riassegnare x non penso neanche che vi non lo so dopo proviamo penso che comunque no sì lo riassegni ma poi tanto in un case lo riassegni ok facciamo finta che fai x uguale 10 ok tu sì x diventa 10 lo puoi utilizzare che vale 10 finisce lo switch x continua a valere 10 ma tu sei già entrato dentro un case quindi non entra poi dentro un altro con il nuovo valore aggiornato cioè tu sì ah no no i break non esistono in dart che infatti è una cosa che a me non piace per niente perché nel momento in cui siamo in questa struttura qua perfetto ok in tantissimi altri linguaggi voi dopo quando siete in un case mettete le vostre discussioni poi mettete il break ok potete omettere il break in tanti linguaggi per fare che cosa per esempio io voglio fare che se è 1 o se è 2 ok io evito di mettere anche questa di mettere il corpo del primo case li metto attaccati ok e in questo modo se uno o l'altro si verificano fa quello che c'è poi sotto e poi metto un bel break oppure a volte mi serve per dire eseguire ecco facciamo finta che metto il maggior di 0 ok e sì ecco per esempio in questo caso qua se io ho 2 ok se x è 2 io stampo 2 e poi in altri linguaggi senza il break qua sotto mi cade anche nel maggiore di 0 perché viene soddisfatto in Dart questa cosa non si può fare perché automaticamente finito il mio case lui fa il break in automatico quindi questa feature proprio non esiste in Dart tornando a noi quindi cosa succede è che noi possiamo adesso andare a assegnare valori direttamente switchando sulla nostra variabile questo è un esempio che non è molto utile per cioè in un caso reale non è sta gran cosa ah giusto ovviamente c'è anche il caso con la wildcard dove non ci interessa che valore a x noi andiamo ad assegnare 100 alla nostra variabile quando è che risulta molto comodo per esempio quando vogliamo utilizzare le classi guardate che che roba comoda una classe punto c'è una x e una y ok la metto qua da lato creo un punto dopo di che cosa facciamo vado a switchare sul punto ma guardate con che sintassi state attenti perché è molto fuorviante come sintassi perché perché io lo sto dicendo case point e poi x 0 y 0 quello non è il costruttore della classe punto ok lì io non sto creando un punto io gli sto semplicemente dicendo il caso in cui p è un punto la cui x è 0 e la y è 0 ok è un po' strano da farci da da capire alle prime le prime volte ma poi è abbastanza è abbastanza parlante quindi cosa succede che il nostro punto che ha x 1 e y 1 scusate e y 2 non entrerà in questo case perché io lo voglio assolutamente con 0 e 0 ok possiamo anche controllare possiamo anche mettere dei controlli per quanto riguarda maggiore, minore, uguale e robe simili quindi appunto se la mia x e la mia y sono maggiori di 0 entrerà in quello oppure possiamo addirittura mettere anche dell'algebra booleana quindi io posso dire che voglio assolutamente y uguale a 3 ma x può essere 3, 5 o 9 ok possiamo anche controllare il tipo della nostra variabile per chi non conosce Dart esiste il tipo num che viene utilizzato per identificare appunto un numero generico quindi può essere sia int che double ok quindi possiamo anche andare a controllare che la nostra variabile sia di un tipo specifico perché cosa succede? Dart è abbastanza intelligente da capire che sì io l'ho definita come num quindi può essere int o double ma nel momento in cui io gli assegno 5 lui sa che quello è un intero ok quindi nel momento in cui entra dentro il mio switch lui sa tranquillamente distinguere tra intero e double sulla mia variabile cosa succede però se io faccio una switch di questo tipo mi viene segnato come errore all'interno del mio editor perché? qualcuno sarà risposto vai sei troppo forte tu però cioè io cosa sto a spiegare cosa fare? non è abbastanza esaustivo il nostro switch perché? perché come ho detto num può essere sia int che double giusto? noi però stiamo andando a controllare soltanto il caso in cui la nostra variabile sia un intero e quindi l'editor si lamenta e ci dice guarda che però non stai andando a considerare tutte le casistiche che può assumere il tuo controllo ok? devi controllare tutto ok? e giustamente in questo caso è facile perché io posso tranquillamente andare ad aggiungere il caso con double e ho finito ma in caso in cui ci sono molti più valori da dover andare a controllare come si fa con la come si dice con il caso con la wildcard quindi dite underscore freccia faccio qualcos'altro e in quel modo tutto quello che non avete controllato finisce nel calderone detto questo ghinum ho creato un inam così permission delle permission che si possono dare ad un utente per esempio che cosa si può fare per esempio qua faccio una funzione get string che in pratica mi serve semplicemente per andare a trasformare le mie varianti dell'inam in testo ok? io faccio lo switch su non so se avete presente come leggere questa cosa qua semplicemente cosa succede che essendo noi sempre all'interno del nostro inam questo dis fa riferimento a se stesso quindi nel momento in cui vado a utilizzarlo quindi permission.write nel mio codice ok? lui se io faccio permission.write .toString quindi vado a richiamare dall'inam stesso il mio toString quel dis avrà il valore dell'inam che ho utilizzato in quel momento ok? e cosa posso fare quindi? posso switchare sul sull'inam e in base alla versione alla variante che ho utilizzato ottenere il testo corrispondente ok? anche qui errore perché? perché io ho creato il testo soltanto ho switchato e ho messo soltanto i case in cui ci sono soltanto questi due quindi devo o aggiungere la wildcard per le altre che non ho considerato oppure aggiungo un case per ogni singola variante la keyword when prendiamo come esempio due classi utente e l'indirizzo l'indirizzo è poi all'interno dell'utente creo un utente con il suo indirizzo dentro e guardate qua noi andiamo a switchare sull'utente ok? e cosa possiamo andare a fare? noi possiamo andare a chiedergli che vogliamo un utente il cui nome lo vado ad estrarre ok? quindi quel name final name significa io voglio un utente però il nome estraimelo estraimelo avete capito? però perché? perché devo andare a fare degli altri controlli su questa variabile ok? e in questo caso appunto metto la keyword when e metto il nome uguale a mark questa cosa in realtà però è un esempio del cavolo perché? perché io posso semplicemente scrivere questo come prima abbiamo fatto con il punto dove lo volevamo con x uguale a 0 preciso quello io posso tranquillamente andare a dire voglio un utente in cui il nome sia mark ok? anche per esempio con l'indirizzo io posso tranquillamente estrarre l'indirizzo e dirgli quando l'indirizzo scusate il numero dell'indirizzo ok? quindi accedo estraggoli la variabile indirizzo dall'utente e poi accedo al numero e controllo che sia maggiore di 5 però anche questa cosa qua non è ottimale perché? perché io posso di nuovo andare semplicemente a chiedergli un utente con l'indirizzo che abbia il numero maggiore di 5 ok? io posso continuare a fare pattern matching innestato ok? e allora quando è che la keyword when è effettivamente utile? quando c'è qualcosa di esterno che noi vogliamo andare a considerare nel nostro switch e non è la variabile su cui andiamo a fare lo switch quindi per esempio se il mio utente scusate se se vabbè sta roba qua effettivamente non ha molto senso comunque vabbè dopo vi spiego perché io voglio ottenere il mio utente ma solo quando il valore è 7 ok? questo non lo trovo all'interno del mio user ok? ma arriva da fuori quindi il when serve per controllare delle per effettuare dei controlli ovviamente quello che c'è dopo il when deve essere sempre qualcosa che restituisce bool ok? è sempre un true o un false che deve effettivamente farmi accedere al corpo del case ok? ma mi serve appunto per controllare cose che arrivano da fuori per esempio con l'inam di prima io posso fare se il mio utente è nato prima del 90 e ha il permesso di leggere permesso di scrivere che non è un'informazione magari che insita nell'utente stesso ma boh da qualche altra parte capito? questa sintassi particolare con soltanto due punti final che è differente da quello che avevamo prima ecco così per esempio ok? cosa serve? come vedete qua cosa succede? io ho l'utente user address è una delle sue proprietà e si chiama esattamente address io facendo così posso andare a rinominarla perché magari è troppo lunga o voglio chiamarla in un altro modo che ne so e quindi cosa facciamo? che gli diciamo che noi vogliamo estrarre address ma vogliamo ridefinirla come adr qua in questo caso mentre invece questa così cosa succede? così abbiamo name e lo estraiamo richiamandolo name questa cosa non serve a niente perché? perché se noi vogliamo tenere il nome esattamente com'è possiamo appunto far a meno del name iniziale e c'è questa sintassi appunto dove abbiamo soltanto due punti final name quindi ci andrà ad estrarre il name dallo user e lo tiene con il nome che ha originariamente guardate qua qua posso effettivamente fare un controllo ulteriore utilizzando when ovvero come estrargo dal punto x e y ok e controllo che x sia maggiore di y questa cosa non la posso fare senza when perché non ho modo di andare a fare questo controllo direttamente all'interno del mio punto qua ok liste mappe una lista normalissima il pattern matching non è soltanto qualcosa legato agli switch ok è qualcosa che ci permette di andare a lavorare con i nostri dati anche nel 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 nello sviluppo al di fuori appunto delle strutture di controllo ok cosa succede per esempio in questo caso noi abbiamo questo case ok io così gli sto dicendo che deve matchare solo e unicamente se la mia lista contiene 1 2 3 quindi però è importante notare il fatto che la lista deve essere di tre elementi il primo è 1 il secondo è 2 il terzo è 3 solo in quel caso matcherà una cosa che il pattern matching ci permette è per esempio anche la decostruzione delle liste ok questa cosa non era mai stata possibile prima di dart 3 adesso cosa possiamo fare noi abbiamo la nostra lista ok e possiamo da questa lista estrarre degli elementi in modo posizionale ok quindi con questa sintassi noi andiamo a creare queste variabili ok dove x sarà il primo elemento y sarà il secondo mentre con lo spread operator gli diciamo che vogliamo una variabile tail che contiene tutto il resto ok questa cosa c'è in tantissimi linguaggi adesso c'è anche in dar possiamo fare anche il contrario ovvero prima ci metti tutto quello che c'è nella lista e poi vogliamo catturare soltanto l'ultimo elemento e me lo metti qua dentro ok e ovviamente anche quello che c'è nel mezzo quindi voglio che qua in una variabile che si chiama first mi metti il primo elemento dentro l'asta e l'ultimo e tutto il resto me lo butti dentro questa variabile qua è abbastanza chiara questa cosa? sì ok perfetto tornando a noi che cosa possiamo anche andare a matchare? per esempio in questo caso io gli sto dicendo che voglio una lista che inizia per uno ok però è importante il fatto che è una lista solo di due elementi non è inizia per uno e basta e di due elementi perché? perché gli sto dicendo che voglio che in posizione una ci sia in posizione zero ci sia uno e nel secondo boh qualcosa non mi interessa che numero sia ok ovviamente possiamo fare anche il contrario quindi inizia per qualcosa e poi c'è due ma possiamo fare con lo spread operator anche il discorso di prima ovvero inizia per uno e basta quindi tutto quello che c'è dopo non mi interessa che sia di 10 di 20 elementi è uguale basta che inizi per uno o che finisca per due ok mappe io per esempio qua ho una bellissima mappa non importa il perché sono stati strutturati così i dati fa schifo ma è utile per noi per capire che questo è il modo per poter controllare con dart normalmente che il nostro json soddisfi questa struttura ovvero se ci arriva da back end il nostro json con quei dati ok io devo fare tutto questo codice per sapere se è effettivamente così come me lo aspetto ok capite che non è comodissimo ok con il pattern matching mi basta questo perché perché io ho il mio json ok dal quale vado a estrarre è un po' ostica come si intassi le prime volte ma vado a creare una mappa con la chiave user esattamente come c'è qua e gli dico che voglio estrarre da un array che so che è dentro user nome e età ok vai domanda allora ok tu quindi vuoi tu vuoi sapere nel caso mi arrivi 13 e poi livi se dentro name mi finisce un numero anziché una stringa ok allora non puoi non puoi controllare per quanto riguarda il tipo puoi puoi controllarlo in un secondo momento no no effettivamente type checking non puoi farlo no perché tu in questo in questo modo qua vai semplicemente a dargli una struttura e a cercare di estrarla perché come vedete noi normalmente abbiamo definiamo la variabile e poi dopo l'assegnamento gli diamo un valore poi invece dalla variabile stiamo estraendo cose creando delle variabili ok e in questo caso non puoi andare a a filtrare in base a quello anche perché questo qua non è un controllo ok quando tu non stai controllando i dati gli stai semplicemente dicendo come te li aspetti e estraendo dalla variabile json nel caso in cui per esempio questo array avesse un solo elemento questo va assolutamente in errore anzi neanche va in exception ti esplode tutto e ti dà una pattern matching exception ok quindi comunque non è che chip lo fa e va avanti senza problemi comunque da errore crea delle eccezioni infatti fare questa roba qua è consigliato diciamo soltanto su del codice tuo e che non è e non può essere casuale ok perché ok che da back end ti deve sai circa che cosa ti dovrebbe arrivare ma può capitare che arrivi roba in più roba in meno bene se invece per dire non so sai già che da una tua funzione ti arriva una determinata struttura di dati allora puoi direttamente già estrarre i dati come vuoi tu e riutilizzarli ok anziché fare punto qua punto qua detto questo prendiamo per esempio una risposta da server di questo tipo lo status e i dati noi che cosa possiamo andare a fare possiamo andare a switchare su questa response e possiamo addirittura andare a controllare che i dati siano esattamente come ce li aspettiamo quindi come case possiamo direttamente mettere una mappa al cui interno ci sono i dati esattamente come ce li aspettiamo noi quindi se in questo caso vabbè ho matchato esattamente la mappa identica ma chi ci vieta di poter andare a controllare per esempio se lo status è 400 allora vado ad estrarre dalla mappa interna le informazioni e le stampo ok perché ovviamente non posso sapere che valore abbiano prendiamo un caso per esempio con invece un jvt non so se si riesce a leggere lì in basso è semplicemente un token ok che cosa faccio in questo caso qua vado a sbucciare su response e vado a chiedere a estrarre dalla chiave jvt il mio jvt quel punto di domanda che cosa serve come ecco anche io lo pensavo no no perché perché in pratica boh è strana come cosa in pratica questa cosa qua significa normalmente lo usiamo per la nullability in dart ma in questo caso entra solo se il token c'è se c'è per forza ok esatto quindi solo se non è assolutamente null allora entra lì dentro e non so perché abbiano scelto di fare questa cosa boh ci arriviamo ci arriviamo no poi in realtà a fini della spiegazione non serve che sia effettivamente esaustivo però certo bisogna andare poi a mettere sempre il fallback case quello con la wildcard perché se no si lamenta perché giustamente cosa succede lui sa che response è una map ok e controllando per esempio soltanto un caso ce ne sono 100 milioni di altri che non abbiamo contemplato quindi serve sempre la wildcard per andare a dargli un caso in cui finire in cui tutti gli altri non entrino questo è il caso in cui il jvt sia null importante però cosa significa che il jvt è null significa che dentro la nostra mappa la proprietà jvt c'è e il suo valore è effettivamente null ok perché perché se noi invece vogliamo semplicemente se noi prendiamo response e facciamo scusate se noi facciamo response e facciamo response e poi tra quadre in posizione jvt qua ci risponde null giustamente perché è il suo valore ma lo fa anche in questo caso qua vedete qua jvt non esiste ma se io gli chiedo response in posizione jvt lui mi risponde null ma non perché sia il suo valore ma perché non l'ha trovato nella mappa ok quindi queste due casistiche sono una dove jvt effettivamente ha valore null l'altra invece cosa fa cosa controlla prende la mappa che in realtà non è altro che response ok quindi ha lo stesso valore e controllo quando non non contiene la chiave jvt allora dico che il token manca ok mentre qua ha effettivamente un valore però è null dopodiché questo è un caso in cui diciamo è abbastanza il caso dove non mi interessa se 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 c'è e non è null se è null o meno e entra sempre qui dentro ok quindi senza nessun tipo di controllo prima record e tuple sapete cosa sono le tuple sapete cosa sono i record circa sì ok nulla il modo con cui vanno utilizzati non so perché abbiano utilizzato questa sintassi terribile ma come funzionano noi per esempio qua non ha senso questa funzione ma era soltanto per farvi un esempio abbiamo una data da cui estrago l'ora e i minuti e li restituisco sotto forma di tupla di intero intero ok dopodiché se io volessi appunto le ore e i minuti devo andare ad accedere a questo dollaro 1 e dollaro 2 ma con il pattern matching io posso tranquillamente andare a estrarre direttamente dalla mia funzione ovviamente la struttura che devo sempre mettere alla sinistra deve essere uno a uno con quella che vado ad estra cioè quella che mi viene restituita da ciò che c'è a destra quindi prima con le liste mettevo le quadre con le tuple devo mettere le tonde con le mappe devo mettere le graffe devono sempre andare di pari passo quindi in questo caso cosa succede che il primo elemento che mi viene restituito nella mia tupla finirà dentro hours e il secondo dentro minutes ok e quindi queste qua sono variabili che posso poi utilizzare nel mio codice con dentro il valore corrispondente andando a fare questa roba qua ho anche scoperto che esistono le tuple con i parametri nominali non l'avevo mai vista sta cosa non so perché dovrei usarle ma esistono quindi anziché avere quel dollaro uno dollaro due esiste anche direttamente il fatto che posso dargli un nome e quindi poi sarà time.hour 6.minutes però ovviamente anche di queste possiamo fare il pattern matching con questa sintassi qua evitando anche il final e tutto il resto che c'era prima due punti nome della variabile solo però nel caso in cui appunto abbiano già un nome ok e quindi io vado ad estrarli con il loro nome originale con questi due punti oppure li rinomino sì certamente sì esatto posso anche mettere prima minutes e dopo hours perché tanto essendo parametri nominali lui sa capire quale andare a prendere non sono in ordine loop per esempio guardate che comodo mymap.entries ci va a restituire la nostra mappa sotto forma di tupla chiave valore ok e io semplicemente col pattern matching posso andare a dire che ok mi aspetto una mappa entry che ha una chiave e un valore e posso direttamente estrarli da questo mappa entry elemento per elemento e utilizzarli qua dentro quindi non bisogna più fare quella cosa del prendere mappa entry poi salvarsi la variabile entry dentro il for dire che entry punto key è la mia chiave entry punto value è il mio valore ci risolve un sacco di ci toglie un sacco di codice che prima andava invece scritto e posso farlo anche per dire con le liste esiste punto index che in pratica ci dà oltre all'elemento anche il suo indice ok e quindi sempre col pattern matching visto che questa cosa restituisce sempre un record posso andare ad estrarre direttamente l'indice e il valore della mia lista e utilizzare ultima cosa poi ho finito quando andiamo a fare i controlli sulle classi possiamo anche andare a intanto estrarre proprietà dalle classi stesse quindi per esempio questa qua serve molto in flutter perché ti va a dire le dimensioni dello schermo e ogni volta quello che si fa è salvarsi prima il valore di questa variabile qua poi salvarsi delle variabili che sono il size punto height e punto width invece in questo modo possiamo direttamente andare a creare due variabili che contengono già quei valori lì o anche per esempio con offset posso andare a estrarli chi fa cose un po' più pazze con la matematica esiste vector 2 vector 3 per la diciamo i punti nello spazio vettoriale anche da lì potete andare a estrarre direttamente x e y e z e quant'altro si può fare pattern matching anche negli if quindi per esempio se noi abbiamo soltanto un caso da controllare tirare fuori uno switch dove poi dobbiamo metterci anche il caso di default non ha senso possiamo direttamente farlo in un if quindi posso controllare se il mio punto è di questo tipo fai questa cosa qua ok e ovviamente funzionano tutte le regole che abbiamo visto anche prima quindi si può andare a estrarre dati fare altri controlli usare il when e quant'altro e poi si può anche accedere alle getters ovvero per esempio ah sì vabbè è giusto dopo ci arrivo per esempio non so di una lista io posso controllare che debba essere lunga 5 quindi posso fare posso fare lo switch sulla mia lista e poi nel nel case metto length 5 ok lui in automatico andrà a chiamare la getter della lista e mi darà la lunghezza e farà il controllo perché però state attenti perché perché appunto se io faccio una cosa di questo tipo lui va a controllare la lunghezza della lista e entra benissimo oppure posso controllare se è vuota bene il problema qual è è che finché sono classi diciamo di dart loro sono già a posto sono tranquille da poter essere utilizzate ma prendiamo per esempio di nuovo il nostro punto e facciamo finta che io creo una getter di questo tipo tutto bene non fa nulla di male ma in un caso di questo tipo qua ovvero io prima di restituire le coordinate per un motivo che ora non sappiamo devo fare un for che dura da qui a quando andrò in pensione ok io se faccio pattern matching se in uno switch gli chiedo voglio che le mie coordinate siano 3 e 5 utilizzando però la mia la mia getter ok in questo caso la getter verrà chiamata e tutto questo for verrà fatto e quindi la mia applicazione si pianta lì ad aspettare che lo switch finisca quindi state attenti alle getter che chiamate all'interno del dei vostri switch perché possono effettivamente dare dei problemi se contengono operazioni di questo tipo quindi niente di asincrono niente di bloccante per l'applicazione solo dati sincroni esatto basta finito qui avete delle domande volete vedere qualcosa di specifico qualche cosa di pratico no? a posto allora finito così vi lascio qualche qualche link più ci sono sia i miei link dei social che ovviamente non fregano a nessuno ma c'è anche il link del canale telegram della community del gruppo telegram della community flutter italiana quindi se avete appena iniziato con flutter se volete iniziare con flutter lì c'è il link al gruppo telegram non vi mangia nessuno fate tutte le domande che volete e vi daremo una mano e basta questo è tanto applausi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti